Io vivo sempre le cose due volte. Deja vu cronico. Ho sempre la sensazione che quello che faccio mi è già successo. Allora, la cosa è semplice. Adesso noi entriamo, puntiamo la pistola alla cassiera che tanto è d'accordo con noi. Prendiamo i soldi in un minuto e ce ne andiamo. Fermo! Tira fuori i soldi dalla cassa, muovi! A me non è che mi capita così una volta ogni tanto. Tutti i giorni. È sempre così. Io a te ce l'ho visto. Quindi secondo te, prima di oggi a te ci sarei molto a fisco? Qualcosa è cambiato. La solita sensazione di deja vu non c'era più. Adelaide? Chi sei? Se tu gli potessi fare un messaggio, lei si chiamava Adelaide. Se vuoi, puoi. Non so.